Ciao, benvenuti agli Oneros Film Awards. Siamo qui con Lorenzo, che è il regista del cortometraggio I Catch You. Lorenzo, ci vuoi dire qualche cosa? Allora, I Catch You è un cortometraggio prodotto dal Centro Sperimentale di Milano, distribuito da Premiere e in coproduzione con Smile Vision. Sostanzialmente si tratta di un pedinamento, un giro per Milano, per la città di Milano. Seguiamo un protagonista, un terrone misterioso, che sostanzialmente insegue un affarista milanese e poi alla fine c'è un plot twist e scopriremo, diciamo, delle cose in più sul personaggio e sulla storia e sui segreti, ecco, che i due personaggi, ma allo stesso tempo, ecco, si racconta anche la città. Come ti sei ispirato a questa storia? Allora, la storia è tratta da un racconto di Gianluca Vittorio, edito da Morellini Editore nel 2014. Poi, praticamente, là dove c'è troppa luce l'aveva visto anche lui, il corto con cui ero qui l'anno scorso, e sostanzialmente ha detto, mi è piaciuto, vorrei che tu facessi un corto di questo. Che bello, quindi l'Oneros ha creato una connessione di lavoro. In qualche modo, sì, ci conoscevamo da tempo, però lui ha visto il corto che, insomma, anche era girato qua e ha detto, facciamo qualche altra cosa. Abbiamo lavorato sulla sceneggiatura e poi l'ho fatto come corto di diploma al centro sperimentale e adesso sta girando i festival, questo è il terzo festival dove... Beh, congratulazioni prima di tutto. Volevo chiederti se stai già lavorando a qualcosa di nuovo. Allora, la realtà è questa. Io sostanzialmente sto lavorando su un pilot di una serie di V che connette i tre personaggi dei tre cortometraggi che ho fatto finora nella mia vita, al 2015 e ora. Quindi i tre personaggi, sia il nick di La 12 è troppa luce, sia G di questo qui, sia Caruso, un altro poliziotto, in teoria sarebbe all'interno di un progetto che si chiama Mist City. Ok. Che, ho scritto il pilot e ora sto cercando dei produttori, dei finanziamenti, delle cose di questo tipo e sto mandando bandi di concorso perché sostanzialmente... E poi c'è un pitch trailer pronto che prima o poi vi mostrerò. Prima di tutto, congratulazioni, siamo contentissimi. Grazie. Se vuoi aggiungere qualcos'altro, altrimenti... Vabbè, diciamo che mi piacerebbe tantissimo ringraziare tutta la truppa, sono tantissimi. È in parte siciliana e in parte milanese. In parte i miei colleghi del CSC di Milano, Giulio Cannata, Lorenzo Cioglia, Giuseppe Bonasia, Federico Adalchini alla fotografia e tutti gli attori, Edoardo Barbone, Alberto Fasoli. Veramente è stato un bel gruppo. Insomma, una grande troupe. Il film è una grande famiglia. Sì, e poi comunque appunto siamo stati 20-30 persone. Poi abbiamo girato anche a Catania con altri ragazzi, Adriano. Insomma, grazie a tutti quanti e speriamo bene, incrociamo le dita. Noi vi facciamo un in bocca al lupo e grazie di essere qui. Grazie a voi. Siamo onorati di avervi qua a Gioniros. Grazie. Grazie, ciao.